Qualcosa di bello, stavamo dicendo adesso, qualcosa di bello, qualcosa di bello perché qua c'è la parola teatro, tra le cose belle la parola teatro, ma poi l'abbiamo già fatta questa conferenza, ci siamo già detti quanto è importante questo nome, il nome, un nome proprio di una persona che ha dato alla cultura maceratese, ma continuiamo questa cosa della cultura maceratese, ma in realtà ha dato alla cultura, alla cultura, non perché con grande orgoglio siamo maceratesi, però alla fine bisogna anche riconoscere il valore intellettuale delle persone che contribuiscono a rendere più ricca davvero la cultura, questa parola che è molto poliedrica, è così grande. Dante Cecchi è stato tutto questo, l'abbiamo raccontato e l'abbiamo detto. Oggi essere accompagnati dentro il teatro dalle storie, dalle storie di Dante Cecchi, adesso qui autorevoli, personalità molto più competente, insomma ci introdurranno dentro questa storia che abbiamo messo in campo, è soltanto un grande onore, un grande prestigio. Devo dire che, lo dico a Fabio, che con grandissimo impegno, lavoro, ci ha portato qua, ci ha condotto qua, ci ha fatto arrivare qua. Lo dico, ma devo dire che questo tuo fare operoso davvero era, come dire, l'acqua, perché non ha messi così duri, insomma, così preoccupati, tante situazioni che non possiamo far finta che non ci siano state, No, no, assolutamente. Ci sono, e ci sono state, e ci sono le preoccupazioni, e anche l'animo, e anche l'animo pesante. Allo stesso tempo, questo desiderio di Fabio, comunque di arrivare, di Fabio Macedoni, con lui e tutti coloro che hanno collaborato, lo dico a Quinto anche per la disponibilità, di arrivare a mettere in campo questo, e del poter invitare la gente ad uscire, ad uscire per incontrarsi insieme a teatro, io penso che questo è il grande successo di Dante Cecchi oggi. Se oggi ci riporta le domeniche a teatro, di che giorni sono? Le domeniche a teatro? Tutte domeniche. Tutte domeniche. Le domeniche a teatro, io penso abbiamo davvero ritrovato quello spirito di comunità che ci fa guardare con ottimismo davanti, e questo è il grande risultato di oggi. Non entro nei contenuti artistici e nelle scelte, perché è tutto merito vostro, ma solo ripetere grazie, grazie per tutto questo lavoro. Grazie. Fabio. Dunque io intanto ringrazio Stefania Monteverdi, io la chiamo Stefania, dovrei chiamarla Assessore, Vice Sindaco, ma è una collega, quindi noi veniamo dal mondo della scuola. Quelli sono gli incarichi che ti capitano nella vita per un po', poi resti Stefani. Ecco, veniamo da questo. E bene, ringrazio quindi per la disponibilità, ringrazio con lei l'amministrazione comunale che ha voluto comunque credere in questo progetto. Un progetto che parte da lontano, lo sapete, non lo ripetiamo, è partito già col Centro Studi Storici in una data di ottobre in cui il teatro Lauro Rossi era gremito, gremitissimo, quando si è parlato della persona poliedrica che è Dante Cecchi. Bellissimo. Abbiamo annunciato in quella occasione anche che avremmo fatto delle rassegne, il terremoto ne ha impedite alcune, ma non parliamo di quelle che non siamo riusciti a fare, parliamo di quelle che sono invece in atto o che saranno in atto. Una di queste, la più importante in assoluto, perché Macerata è una città fondamentale nella vita e nell'opera di Cecchi, è quella che prenderà il via appunto il 29, domenica prossima. Tutte e sei le commedie di Cecchi, credo che il risultato più importante sia aver messo insieme, ma di questo potrà parlare Quinto, che poi è il presidente regionale di una delle federazioni delle teatri amatoriali, che è la UILT, non è facile mettere insieme delle compagnie teatrali amatoriali, sono tutte molto autoreferenziali, sono terribili, non si amano per niente, è una cosa difficilissima. Però in qualche modo probabilmente il progetto è stato più forte dell'individualismo, che certe volte anche in molti altri campi fa danni notevoli, noi siamo poco abituati alla cooperazione, le nostre città sono tutte murate, quindi un motivo ci sarà anche storico. Bene, ma questo era giusto per dire, invece quello che volevo anche fare era ringraziare Giovanni per la grande disponibilità che ci ha dato e l'abbiamo messo di mezzo un bel po', ringraziare la presidente di Fondazione Carima, Rosaria del Balzo Ruiti, perché la Fondazione Carima ha voluto aderire a un progetto che abbiamo suggerito, ristampare tutte le opere di cecchi e questo è un altro grosso risultato, diciamo così, non abbiamo scoperto l'acqua calda probabilmente, ma tutti quanti prima che venisse scoperta l'acqua calda non sapevano cosa fosse, quindi un po' di merito ce lo prendiamo per questo, per averci creduto. E poi abbiamo il professor Pongetti, con l'Università di Macerata abbiamo instaurato una sorta di percorso comune che affianca le stagioni teatrali alla parte diciamo scientifica, dialettologica e in questo anno in particolare avrebbe dovuto accompagnare tutte le rassegne una sorta di guida proprio al teatro dialettale di cecchi, quindi la letteratura dialettale di cecchi, parlo di letteratura dialettale, non a caso insomma, ma questo poi ci entreremo un pochino meglio dentro. Un'ultima cosa dico, per noi cecchi, io appartengo a una delle compagnie che presenterà tutto questo cartellone, è presente solamente un'altra compagnia che è la Don Valerio Fermanelli di Camporota, Carlo Serpilli è uno dei tanti ct che troveremo sul palcoscenico, il regista è qui tra noi che è Quinto Romagnoli, anche di questa compagnia. Dicevo, l'abbiamo vissuto un po', io parlo stavolta, adesso mi trasferisco un po' sull'ambito compagnia, abbiamo cercato di vivere un po' questa rassegna come una sorta di racconto osservatorio della storia minore, degli anni 50-80. Un osservatorio importante per il nostro territorio, perché dà anche a vedere un po' cosa muta, cosa cambia, e in più non scordiamoci che molte di queste commedie sono state scritte nel decennio 60-70 che nel mondo è stata una rivoluzione decisamente più forte che quella copernicana. Con grandi eventi, pensiamo all'uomo sulla luna, pensiamo a Martin Luther King, Papa Giovanni, Kennery, I figli dei fiori, l'isola di White, insomma, mettetene voi, sono stati tempi, il 68, sono stati tempi estremamente importanti, che forse qui da noi sono arrivati a onda di stagno e che nelle commedie di Cecchi sembrerebbe quasi di pensare che non potessero mai arrivare, invece no, ci sono. Ma perché ci sono? Perché, qui torniamo all'autore, perché Cecchi è un testimone attento di un tempo. Questo tempo che attraverso le commedie, palesemente delle piccole storie, però fa vedere questa storia di fondo, la storia quella con la S minuscola, quella nostra, quella che ci ha in qualche modo portato alla maturità. Ecco, questo, anche questo aspetto, al di là della commedia in sé, ha un suo significato e un suo senso. Mi fermo qui, lì vedete, e vi sono le idee, vedete insomma il calendario, io direi di proseguire, Stefania, tu sei la padrona di casa, fallo tu, insomma, ecco. Allora, io direi di parlare del libro. D'accordo, d'accordo. Oppure con Quinto se vogliamo parlare ancora. Quinto, posso chiederlo? Deve andare via. Ho dei tempi strettissimi, ma tengo particolarmente a dirvi che cosa ha sostenuto la scelta della Fondazione Carima nella pubblicazione di questo libro. Innanzitutto apprezziamo, perché trovo che in questa immagine di copertina di Virgilia sia veramente, dia veramente una chiave di lettura di Dante Cecchi, del professore, con questa espressione così dolce e buonaria che io ricordo, pur nascondendo questa sua dolcezza, una forza e un carattere estremamente significativi. Abbiamo la pubblicazione dei testi delle commedie, questi testi di letteratura, sottoscrivo pienamente quello che diceva il professor Macedoni, è letteratura e non minore. I testi delle commedie di Dante Cecchi vuol dire avere una particolare presenza, una particolare visione del nostro territorio, perché vogliamo lasciare alle future generazioni la memoria di quella che era la storia non minore, ma che ha fatto crescere i nostri bisnonni, i nostri nonni, che ha significato molto per questo territorio. Le commedie che hanno fatto parte un po' anche della memoria di ognuno di noi, chi di noi non ha passato comunque un sabato o una domenica in una piazza, in un teatro, in uno dei nostri straordinari, meravigliosi teatri storici che caratterizzano il territorio provinciale. Purtroppo gli ultimi eventi hanno messo un momento in disparte qualche teatro storico, ma speriamo che in tempi brevi li potremo recuperare tutti. Poi il professor Dante Cecchi, che anche per noi Fondazione Carima è stata una figura estremamente importante, una figura a 360 gradi, perché l'abbiamo visto spaziare nel mondo universitario, nel mondo culturale, nel mondo politico, nella forte rappresentazione della nostra città. Io non mi voglio dilungare, perché poi avremo modo di presentare questo testo. Voglio soltanto dirvi una cosa perché ho finito poco fa di parlare e abbiamo evidenziato. Il professor Macedoni e soprattutto il professor Pierfrancesco Giannangeli hanno fatto un lavoro estremamente puntuale. Non voglio rubarle il lavoro, professore, ma una ricerca degli accenti nella trascrizione di questi lavori estremamente attenta. L'accento nella riproduzione di un testo dialettale è un elemento fondamentale, perché ci vuole far tramandarci, tramanda quella che sarà l'esatta pronuncia e quindi la memoria storica e la memoria culturale di quello che era il dialetto parlato dalle generazioni passate. Un lavoro non semplice assolutamente, perché quando poi parliamo del posizionamento degli accenti faccio riferimento alla professoressa Monteverde, la cosa è estremamente difficile e complicata, ma è stato, credetemi, il professor Giannangeli ha fatto un lavoro di estrema puntualità, non c'è un accento che non sia stato riprodotto con la piena consapevolezza che quella era la giusta pronuncia della parola. Le future generazioni avranno quindi non solo di fruitori di teatro amatoriale, ma soprattutto anche di chi vorrà studiare, perché della letteratura non minore verrà un giorno studiata, saprà qual è l'esatta pronuncia. Voglio chiudere solo con una nota estremamente personale. Io ho avuto modo di conoscere il professor, anzi devo molto al professor Dante Cecchi e qui rientro in una materia che a voi compete molto di più, lo dico al Quinto Romagnoli, lo dico al professor Macedoni. Io ho avuto una frequentazione di teatro amatoriale per qualche anno, non nei testi del professor Dante Cecchi perché purtroppo non ho la cadenza giusta per fare teatro dialettale, questo mi è stato sempre detto dai registi delle compagnie che ho frequentato, quindi avevo questi ruoli ma in lingua e non in teatro. Ma quando stavo finendo, stavo frequentando l'ultimo anno di liceo scientifico, la mia somma aspirazione sarebbe stata quella di scrivermi al Dams, perché all'epoca immaginate non sono giovanissima, quindi dai miei genitori veniva vista come un futuro assolutamente di devianza e molto poco apprezzato. Purtroppo poi eventi personali nella vita di ognuno di noi mi hanno impedito di fare questo e sono dovuta rimanere nel territorio maceratese e a malincuore mi iscrissi a giurisprudenza, veramente con un cuore gonfio e con una tristezza nell'animo perché non era quello che avrei voluto fare. Il primo esame che sostegna l'università fu storia dell'amministrazione pubblica con il professor Cecchi, il quale si complimentò con me per un ottimo risultato raggiunto e al quale io aprendo il cuore e dissi ma non è quello che io avrei voluto fare, perché io avrei voluto fare un'altra cosa e lui mi disse ma sa a volte la vita restituisce in corso d'opera quello che si vuole poi fare, quelle che sono le insite passioni in ognuno di noi. Devo dire che fu profetica quella cosa, io ho completato gli studi di giurisprudenza, mi sono dilettata di fare del teatro amatoriale, quindi ho anche compensato questo intimo input, questo intimo sentire per cui lo ringrazio e mai come adesso anche come presidente di fondazione quando il professor Macedoni mi ha proposto questa iniziativa l'ho abbracciata veramente con molto entusiasmo perché va a compensare anche dei desideri personali, per cui sono convinta che la manifestazione avrà un grande successo, amo molto perché ci vuole molta passione oggi, è voluta sempre ma oggi più che mai per essere delle compagnie di teatro amatoriale e per far del teatro amatoriale perché è veramente un dispendio non solo di tempo, di energie, è veramente un discorso che a volte è redibitorio soltanto nel momento in cui ci compensiamo con l'applauso delle persone che gradiscono le performance e la passione deve essere un elemento che mai, mai come ora in tutta questa purtroppo vicenda che stiamo vivendo anche come provincia, come regione eccetera deve essere l'elemento che sostiene tutte le nostre azioni, per cui questa è la motivazione che ci ha spinto ad approvare e appoggiare assolutamente questa iniziativa. Presidente approfitto per dire che il libro verrà presentato per la prima sua uscita proprio al Teatro Don Bosco il giorno 12 febbraio in occasione della commedia con Melusole alle 17 ci sarà la presentazione del libro e alle 18 la commedia, slitterà un pochino rispetto agli orari che sono sempre le 17 e 15 però aggiungo anche che questo libro verrà anche presentato sempre a seguito o parallelamente alla commedia anche il 4 di marzo a Recanate al Teatro Persiani, poi verrà presentato a Treia il 18 marzo in occasione della festa del patrono e poi verrà presentato a San Severino, al Feronia il giorno 8 aprile e anche il 23 aprile alla Nibalcaro di Civitanova Alta. Perché questo al di là delle rassegne? Perché la fondazione ha voluto anche un pochino sul territorio far conoscere in maniera un pochino più espansiva a questa pubblicazione che noi reputiamo, ma che lo reputiamo noi è abbastanza facile reputiamo però una bella cosa e anche non facile da fare perché le cose sono sempre facili dopo ma prima credetemi non lo sono. Per cui il ringraziamento è veramente come dire di cuore perché pensiamo che non solo per gli amanti ma in generale sia un modo per gustare queste storie ancora oggi perché tra l'altro l'edizione del 98 era esaurita da tempo. Grazie Presidente e questo era per dire un po' tutto il percorso insieme a Fondazione Garibaldi. No, 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 no. Professore. Tocca a me? Sì, vi ringrazio. Dunque, qualche parola per motivare la mia presenza in qualità di direttore del Dipartimento di Studi Umanistici e non di esperto cultore di temi e questioni dialettologiche ma nei discorsi che sono stati presentati ci sono molti elementi che mi aiutano a motivare e a dire perché. Si è parlato di DAMS, si è parlato di discipline dello spettacolo. Beh, il Dipartimento di Studi Umanistici nasce dalla Facoltà di Lettere e Filosofia che proprio qualche anno addietro avviò una esperienza formativa, un'esperienza formativa che ebbe anche molto seguito e che poi ancora oggi in qualche modo è presente, essendoci ancora qualche studente che si deve laureare e il referente è il professor Diego Poli che è anche il dialettologo o meglio il glottologo che ha partecipato e collaborato con le iniziative prese proprio per illustrare i temi, i caratteri, i contenuti del Teatro di Cecchi ma soprattutto anche la sua ricerca in campo dialettologico e direi che questo rientra anche in una missione, in una visione fortemente ancorata al legame che il Dipartimento ha con la città, l'Università con la città. L'assessore ricorderà l'incontro di poco più di un anno fa in cui si è cercato di vedere e concordare delle linee di azione comune perché l'Università svolge la propria azione con la didattica all'interno delle aule ma si apre al territorio e direi che proprio questo campo, il campo della disciplina e dell'arte della rappresentazione sono quelle che registrano una ampia partecipazione del Dipartimento. Nell'autunno un'altra associazione ha proposto una rassegna cinematografica di film e ha associato a questi un'illustrazione delle opere dal quale derivavano o delle realizzazioni filmiche che le trasponevano appunto in sequenza visiva. Ora con il teatro questo avviene nuovamente, l'umanesimo che innova è lo slogan dell'Università, direi che ancora di più è lo slogan proprio del Dipartimento di Studi Umanistici e fa particolarmente piacere direi a me anche per legame personale che in questa occasione al centro ci sia proprio la figura di Dante Cecchi che posso dire di aver conosciuto e di aver incontrato in più occasioni e varie volte, anzi guardando proprio la locandina e ricordando quanto questo suo aspetto dell'attività non fosse per Dante, perché io l'ho sempre chiamato così, anzi in una delle lettere che mi scrisse, se non sbaglio il suo compleanno era il 16 febbraio, ci conoscemmo in un gennaio e io per una funzione proprio di ufficio e di incarico gli chiesi delle cose, lui era vicepresidente appunto della Deputazione di Storia Patria mi rispose firmandosi tuo nonno Dante, il motivo per cui ho sempre sottolineato che il titolo al quale più teneva era quello di nonno nella sua buonomia appunto, mi sono sempre permesso di chiamarlo Dante, ecco non perdevo occasione di sottolineare come è stato un impegno che non poneva in secondo ordine rispetto agli altri, in questo direi un umanista, un umanista nel pieno senso, anzi non so come dire ma appunto parliamo di espressioni, di lingue, nella lingua ci sono costrutti o sequenze particolari, cosiddette palindrome, si possono leggere in un senso, si possono leggere in un senso opposto, richiamo un dato biografico del professor Cecchi, l'essersi laureato in giuraisprudenza ed essersi laureato in lettere e io direi che il percorso che ha fatto in un senso lo si può leggere anche nell'altro senso, è stato ricordato anche nell'ottobre scorso a teatro per quello che è stato il contributo dato alla storia, alla storia degli statuti, se noi prendiamo quegli studi, soprattutto per questi documenti nelle sezioni finali parlano della vita, delle comunità, delle abitudini, delle tradizioni, di quello che è specifico e locale, il professor Cecchi ha rintracciato e proprio spiegato anche alcune espressioni sulle quali oggi noi non sapremmo qual è l'origine, traendole da quella che è la codificazione che ne hanno dato gli statuti e dunque come dalla norma, dal diritto delle comunità locali si arriva alla lingua, la comprensione e lo studio della lingua permette anche meglio l'esegesi di quei testi, dunque direi un percorso del tutto veramente completo, umanistico in senso pieno e l'altro dato, sì, importante la sua attività di amministratore, perché in qualità di amministratore ha avuto anche modo di avvicinarsi a quei problemi, soprattutto nel periodo dell'immediato dopoguerra e fino agli anni 60 che l'hanno visto particolarmente impegnato. Ricordo un aneddoto, diversi aneddoti, uno lo leggo per esempio a questo lupostarello sulla comune, forse Giovanni ricorderà i tanti racconti di quella domanda che venne fatta in comune da un consigliere, quante persone c'è sta sulla comune? E' la risposta che lui diede, la controrisposta in dialetto un po' colorita che Dante disse a verbale, perché così nel futuro come negli statuti si potrà rintracciare una colorita espressione, un modo di esprimersi, il senso di una comunità, ma anche la soluzione, per esempio ecco quando venne il poeta Pound, Ezra Pound a Macerata e i preparativi che si fecero in quella occasione. Quindi ecco, molte sono le cose che mi permettono di dire che Totus, Teres, Atquero, Tutu, una figura completa ha giustamente detto a pieno tondo, in cui queste cose hanno tutte concorso a farne un esponente della cultura chiaramente non locale, perché la letteratura è letteratura e anche la storia è storia. Se non ci fossero le storie locali noi non sapremmo nulla delle storie nazionali, se non indagassimo anche il diritto delle comunità locali noi non potremmo capire molte altre cose e quindi sono veramente tanti i motivi che vedono il Dipartimento ben lieto di poter contribuire, non il direttore del Dipartimento che può solo invocare alcuni ricordi alla frequentazione avuta con Dante Cecchi, ma le forze che sono in campo, in particolare il self, la sezione self di linguistica che è appunto diretta, retta dal professor Diego Poli che tra l'altro ha messo anche in luce la ricerca. Non è stato un dilettantismo quello di Cecchi, lo abbiamo visto a teatro Lauro Rossi in ottobre, la ricerca che ha compiuto su questo frammento di laude appunto per portare la esegesi di un testo alla sua migliore esplicitazione e anche alla sua più corretta restituzione. Quindi chiaramente tutto il sostegno, tutta l'adesione per queste e per le altre iniziative che sono sotto il segno forte della umanità. E sentiamo Quinto. Io solo un saluto molto breve nel senso che il teatro amatoriale è chiaramente chiamato a fare la sua parte, d'altronde la provincia di Macerata da sola ha più di 60 compagnie amatoriali, una cosa straordinaria all'ambito delle Marche che per 1.600.000 abitanti ha più di 170 compagnie amatoriali che operano in tutti quanti i piccoli centri, grandi centri, quindi ecco Cecchi non c'è compagnia amatoriale nel Maceratese e anche nel Fermano, forse che non abbia letto o rappresentato un testo di Dante Cecchi. Molti li hanno rappresentati all'inizio della loro attività, molti li stanno rappresentando, mettere insieme sei compagnie, sì è stato un pochettino complicato perché magari ognuno aveva già i suoi obiettivi, però li abbiamo spinti, il progetto era un progetto molto ricco anche per poter rappresentare poi il lavoro che avrebbero messo in scena e quindi noi come organizzazione che coordina tutte queste compagnie ne siamo soddisfatti, d'altronde abbiamo altre 17-18 rassegne tutte posizionate in piccoli centri dove noi certamente siamo più presenti perché lì il teatro professionale è difficile che possa arrivare per motivi economici, poi abbiamo tutto questo momento così difficile nella parte montana dove sono chiusi almeno 6-7 teatri storici, però voglio dire nella storia di Cecchi ci sono state compagnie che l'hanno rappresentato anche con 2.500 spettatori allo sferisterio, alla fine degli anni 70 la compagnia calabresi rappresentò tre opere di Cecchi una dopo l'altra e ebbe più di 2.500 spettatori a serata, quindi immaginiamo insomma quant'è l'amore dei maceratesi per quest'autore e per le sue opere, quindi questo è tutto diciamo, è una cosa che noi ritroviamo anche oggi perché l'assessore lo sa insomma noi organizziamo anche quella rassegna stiva lì sopra la terrazza dei popoli dove ci sono mediamente 400-500 persone a sera, quindi qual'è l'amore per il dialetto qui a Macerata insomma lo sappiamo e questa sicuramente sarà ancora una testimonianza importante perché già abbiamo visto che stanno arrivando tantissimi abbonamenti proprio per assistere a queste domeniche tutte dedicate alle opere di Dante Cecchi. E ci fa piacere anche? Sì, io se posso un attimo intervenire Stefania, due cose che le ho dimenticate prima ma sono allora, le compagnie sono scritte qua, non le trovate con facilità, inizierà la compagnia Lucaroni di Mogliano, la Pinzio, poi ci sarà la compagnia Don Valerio Fermanelli di Treia che presenterà come l'usole, la giornata in cui avremo la presentazione anche del libro, la prima del libro, poi andiamo avanti con la compagnia Instabile di Civitanova che presenta l'opostarello sulla comune, poi abbiamo la compagnia Valenti di Treia che presenterà le votazioni, poi le pasciote un curato di campagna da parte della compagnia Ginobili di Petriolo e per finire lo petroio di Dante Cecchi, la compagnia alternativa di San Severino. Una notazione sulla compagnia alternativa non riuscirà a presentarsi prima di questa lada, aveva anche qualche altro impegno, ma una metà della compagnia ha perso casa col sisma. Allora abbiamo chiesto, si fa fatica a chiedere a che punto state con le prove in questi momenti? perché mi potrebbero rispondere, dice ma da che parli? Allora io l'ho chiesto lo stesso ovviamente perché li abbiamo comunque voluti aspettare e comunque per la data del 19 di marzo sembrerebbe che sono riuscita a non andare. Bellissima, ci piace, è proprio un segno positivissimo questo progetto. Ho una parola di ringraziamento alle aziende sponsor che per diversi motivi stamattina non sono potute intervenire, cioè l'Oro della Terra, Infissi Design e Libreria del Mondo. Vi ringraziamo sempre quando... Ecco, c'è qua presente Carlo Serpilli, presidente della compagnia Don Valerio Fermanelli, è l'unica compagnia presente quindi potrebbe essere premiato anche con un piccolo intervento se volesse, dopodiché passeremo la parola a Giovanni e poi dopodiché l'avremo finito, credo, perché poi gli impegni sono sempre moltissimi e molteplici. Quindi Carlo... Grazie. Niente, Carlo si astiene. Nei poveri convenienti noi interpretiamo soltanto. Voi fate gli studi e noi gli mettiamo di scena. Grazie. Bene. Giovanni. Io desidero innanzitutto ringraziare amministrazioni, istituzioni, persone di cultura che hanno reso possibile questa complessa iniziativa. Vorrei sottolineare solo questo, rifagendomi a quanto te stai detto dal carissimo amico Fabio, professor Macedoni, il contesto in cui avviene questa iniziativa è un contesto, se vogliamo, la parola dedicato sarebbe una parola diciamo riduttiva, è un contesto in alcuni casi tragico. Però io penso che il significato che possa ulteriormente avere questa iniziativa è quello di far riscoprire o almeno di richiamare le nostre genti, le genti che papà ha considerato come la sua gente, di far riscoprire quei valori che hanno consentito a chi ci ha preceduto di superare momenti molto difficili. Papà in un testo parlava tra i valori, mi ricordo testualmente, della sua gente e quello che era appunto il fatto del senso di solidarietà fra le classi sociali e io penso che più che mai possa essere vero questo accenno che lui dette a questi valori. quindi ripeto, io penso che il significato non secondario ma profondo che possa avere questa iniziativa è quello di far cercare nel rispolverare quei valori, quei sentimenti della nostra gente e di far ritrovare un senso di solidarietà, di unità, anche di orgoglio e dignità in un momento come questo, che io penso che accanto a quelle che potranno essere poi le iniziative delle amministrazioni sotto un profilo tecnico, legislativo e operativo però molto importante e basilari è quello che è l'atteggiamento umano che tutti nelle diverse sfumature possiamo assumere di fronte a quello che la nostra regione insieme ad altre sta soffrendo e sta affrontando. Grazie. Viene da dire che Dante Cecchi ci regala un sorriso e penso che è il regalo più bello in questo momento di cui abbiamo tanto bisogno, ottimismo. Ci siamo dimenticati cose pratiche, organizzative? No, quella è la cosa più importante, domenica pomeriggio, partiamo domenica dal 29 gennaio, un appuntamento facile, incontriamoci lì. C'è una cosa che devo fare, la luce anche il buon discorso, l'ha continuato di oggi. Siccome l'università ricorda parecchio spesso anche i suoi coloro che hanno dato muscolare all'università, ci hanno lavorato, parlare alla dimensione, ci hanno fatto un'azienda musicale, ci hanno approfondito anche a tutti e a tutti, perché, come mi chiamiamo a fare, perché ci hanno fatto un'azienda musicale, ci hanno fatto un'azienda musicale, Si può proporre e sarà poi sbagliato dalle competenze, dagli organi superiori, generalmente lei c'è una regola e questo lo dico perché spesso proprio col professor Cecchi ci siamo confrontati su questo, le intestazioni come anche la toponomastica ha una sua disciplina e nello specifico se si tratta di un'aula questa è una cosa che è molto più semplice, generalmente si rispetta un tempo, dovrebbe trascorrere un certo numero di anni, generalmente sono dieci perché si possa intestare qualche cosa, qual è una via, qual è una piazza, qual è un giardino eccetera. Per quello che sono le aule dell'università io credo che questo possa davvero essere possibile nel nostro dipartimento, il professor Cecchi era nella facoltà di giurisprudenza, quindi nel dipartimento di giurisprudenza, il dipartimento di studi umanistici ha ereditato dalla facoltà di lettere delle intestazioni di aula che ancora oggi hanno mantenuto il nome e sono dei docenti che vi hanno insegnato, certamente. Allora ci vediamo a teatro. Grazie, 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 grazie. Per fortuna c'è sempre un motore nelle cose che muove. Comunque, che mi sta a chiedere domenica, ce ne sono altre che non so le domenica, ci sentiamo qui. Sono in campagna, a mio casa qui, quindi quando sono qui. Corso Cavour, di fronte al dipartimento, casa e bottega, ci abito per lavoro, poi la mia residenza è rimasta sempre a Senigalli. Un po' di vita privata lasciando via, no? Qualche cosa. Carlo, grazie, ciao. Quando non sono a una serata e non sono a treia. Carlo, portate via qualcosa di questo. Ecco, grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Tanto ci rincontriamo. Mi avete fatto via a posto. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Come no. 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 Riparliamo. Adesso non so. E riparliamo. Agostino, grazie mille. Grazie. Agostino, qui. Sì, ho preso. La dinamata nostra. Fai tu. Tu, quando sei voi. Sì, il telefono. Mi dice vengo, mi scrivo. Come è che vale. Sei nostro. Tu e Miriam. D'accordo. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. Amore a tutti. Grazie 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 a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. fu libero. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. al presidente. Grazie a tutti. 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 per le a tutti. 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 perché. che. tutti. tutti. a tutti. tutti. a 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 tutti. 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 a tutti. tutti. e tutti. 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 . . . tutti. . 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